L'erroi è il numero 20 dell'Aus di Ladins. L'argomento maur da Pruma Piata è l'apporazione da man del Consiglio regionale del diritto di metaforatico Mus-Ladins, il simbolo identitario della Mendranza. Dell'attualità si risuona dopo la festa per i 75 anni dell'ordenamento scolastico Endoura, Tegardena e Valbadia. Dell'attività dell'Unione Generale di Ladins della Dolomites, portata ad antes dalla Presidenta Milva Musner alla radunanza. Ed è terminologia giuridica con l'avvocato da Soraga, Andy Rosso. A mona rubrica della Piata è Danfora ne fai scognosser Naila dalla Slovacchia in Cazeda a Pozza. Quest'auta ha un'ence la Piata di Sogni, rincurata dalla redazione del Sfoi della Scuola Filoreflex. Della Piata di Ampezz si risuona della neva struttura per gli eventi metodi a nev del centro di Cortina. Invece da Fodom venne mettendo il programma di uno di due candidati a volte tra l'alitazione di Ott e Neve di Giù. La Piata della Valbadia si risuona con l'intervista all'enrescedore archeologico Talongiarù, che ha dato fuori su Prumliber. E dopo venne dato conto di bui risultati raggiunti dai suonatori Ladins ai campionati mondiei e nazionali. La Piata di Fascia si risuona con il Consiglio del Comune Generale. E sotto, l'un articolo sulla radunanza di sozzi del Consorzio Elettrico di Pozza. Il Grop da Mont è più avvia con direttif e Presidente Neves. E Samont, l'esitinante in cella Raides del Comune Generale per l'Issù della Ladina. A Pè desù, che sia rubrica, Fabio Chiocchetti risuona a mode piantes. E tra questi articoli ne mettono il pellegrinaggio della parrocchia Sfor in Baisiston. Il concerto della Musica Autofascia. L'intervista a Marika Bernard, che ha dato fuori sui terzo libri. E il concerto della Musica da Vic, che ha festeggiato Belce di Ancon con i miei maestri. Ammo la Musica protagonista con i concerti della Issuda della Scuola dei Nossi Valèdes. E con l'evento che ha fatto consumare la notte con il sociale e il volontariato. Nella Piazza di Gardena trovano la scontrazione con gli esperti dei settori desferenti su un tema di grande attualità. E da poi si risuona dell'importanza e del valore dei piccoli insetti. Del sport, ven dat conto di un'altra venta per il fassabalon, della tappa della Rodes di Gardena e della festa del sport con i buonesi in Cieladins. Sulla Uss di Ladins, ogni vendere, potete trovare la neve da tutta la Ladinia. Per info e abbonamenti, potete vi ausere alla redazione di FASA, del ciaso della Monieria Senzan, telefono 0462 764545, mail FASA-LAUSH.it Il sfò in Terladin lente online sul sito www.laushe.it e della botteggia del sfòs di tutta la Val.